salve a tutti benvenuti in questo nuovo video siamo su f1 2012 allora da questo video che sarebbe una live più che altro che farò insieme a tv bex e antani affronteremo un campionato cercheremo di portare un campionato di formula 1 2012 partendo dal 2012 tengo a precisare che sono 25 anni che non gioca un formula 1 il primo e ultimo formula 1 è stato formula 1 del 1996 uscito il primo formula 1 per playstation 1 quindi io questo non lo so utilizzare non vi sembra normale ma tornare su formula 1 dopo 25 anni con un pad che io non ho mai utilizzato prima d'ora ovviamente per giocare altri giochi tipo refs eccetera va bene ma mai su un formula 1 quindi prendetevi con un sorriso infatti gioco con gli aiuti abilitati scusatemi per i puristi ma non gioco competitivo non posso giocare competitivo su un formula 1 dopo 25 anni quindi prendetevele così come sono magari vi fate anche un po' di risate come me ci vediamo ciao scendo in pista ciao scendo in pista Sto facendo il mio giro Primo giro Hai migliorato ancora Levatì dalla traiettoria Bastianoni Montecallo ci si farà Montecallo io scendo con la canna Me ne vado a pescare Se tu la bacco non mi scende Montecallo ci si Si Levatevi dalle traiettorie di riportare i vostri Merda E facciamo questa sosta Comunque a un momento sono 20 Ok Ah 20 Sì Si Si è a grigliata di passenza Piove 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 Non piove 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 Grazie a tutti.